Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Alcuni giorni fa, con una circolare, l'Inps ha preannunciato alcuni cambiamenti importanti che riguarderanno l'erogazione e gli importi delle pensioni di reversibilità. Alcune pensioni saranno soggette a un riesame dell'importo che riguarderà anche la corresponsione degli arretrati. Il contenuto di questo messaggio che riguarda coloro che beneficiano di pensione di reversibilità è presente nella circolare 108 del 2023. L'Istituto di Previdenza ha recepito il contenuto di una recente sentenza emessa dalla Corte Costituzionale, la numero 162 del 2022. La pensione di reversibilità viene corrisposta mensilmente ai familiari superstiti di un pensionato o lavoratore deceduto. Fra i beneficiari previsti dalla normativa vigente vi sono coniugi, figli minori o maggiorenni e altri eredi. Poiché il reddito dei superstiti scaturisce dalla sommatoria dei redditi percepiti dal beneficiario e dagli importi percepiti a titolo di pensione di reversibilità, l'importo stesso della prestazione può diminuire all'aumentare del reddito dei superstiti. In poche parole, secondo la consulta, decurtare la pensione oltre la misura dei redditi conseguiti è da ritenere lesiva dei diritti del superstite e per questo motivo la legge deve essere ritenuta incostituzionale. Per questo motivo l'Inps adesso dovrà procedere ad un ricalcolo degli importi, riconoscendo ai superstiti arretrati e interessi maturati.